No ai container e copertura del disavanzo sanitario per giungere alla fine del commissariamento sono le richieste che il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis e la deputata Rosalba Testamento hanno presentato al ministro della salute Roberto Speranza durante l'incontro avvenuto questa mattina nella capitale alla presenza anche del vice ministro Pierpaolo Sileri e ancora gli ospedali periferici del Molise da utilizzare per decongestionare lab di Campobasso, gli Spock, Diserni e Termoli. Ortis e Testamento dicono dunque no alla soluzione prevista da Toma dei container removibili per i posti letto aggiuntivi di terapia intensiva Siano l'estrema razio, sottolineano, visto che l'utilizzo delle strutture ospedaliere esistenti può garantire condizioni operative migliori per i medici e gli operatori sanitari e maggiore dignità per i pazienti bisognosi di cure. Al centro dell'incontro anche la questione del commissariamento è stato riferito al ministro delle tante incomprensioni tra Giustini e l'amministrazione regionale sanitaria, cioè Tome Florenzano, dissidi divenuti ormai quotidiani. L'ultima lettera del commissario si legge in una nota ufficiale, evidenzia numerose criticità nella gestione dei nosoccomi molisani e al momento l'unico hub regionale soffocato dai contagi che hanno bloccato due interi reparti. Infine Ortis e Testamento hanno preteso attenzione per il Molise, chiesto un'interlocuzione urgente tra il commissario Giustini, il governatore Toma e il commissario Arcuri per dare molisani un'alternativa dignitosa per i pazienti covid che non siano i container e rendere la struttura commissariale in grado di operare, sia con i mezzi adeguati che come aumentate prerogative sulla falsariga di quanto già fatto in Calabria. Infine fondi necessari per il rientro dal disavanzo e il conseguente addio al commissariamento. Grazie.